La mia esperienza personale con Casoria 2, la mia esperienza inizia un anno fa, a settembre 2009 e grazie al direttore Nando Troisi ma anche a mio zio che si trova in sala ha avuto la possibilità di collaborare con questo giornale che come diceva prima il direttore è seguitissimo proprio a Casoria Perdonate la voce ma Cagliari Napoli ieri è stata purtroppo Dico purtroppo come per fortuna Niente, è cominciato un anno fa a settembre e il direttore mi ha dato subito e di questo ringrazio la possibilità di intervistare personaggi che fino a qualche giorno prima o qualche mese prima avevo la possibilità di guardarli solo sul piccolo schermo Menzionarli tutti sarebbe un po' complesso anche perché ne ho intervistati davvero tanti Gretano De Rosa, Michele Criscitiello sono tutti personaggi che ho intervistato io e di questo ringrazio appunto il direttore Per quanto riguarda invece il lato tecnico del sito Io vorrei parlarvi appunto di quello che diceva prima Peppe e quello che diceva anche prima il direttore della possibilità su questo sito di sfogliare il giornale comodamente dal vostro pc Ecco questa è la sezione Questo è il giornale che adesso ingrandiremo In modo tale che questa azione l'abbiamo creata soprattutto per i nostalgici, i cosiddetti nostalgici di Casoria che non hanno la possibilità di comprare Casoria in quanto purtroppo è un giornale a distribuzione locale Quindi non viene pubblicato, non viene venduto nelle dicole di Milano dove si trovano appunto Ciro e Fulvio ma anche a Londra dove c'è Enzo Petrillo Questo è il numero di Casoria 2, l'ultimo numero che è uscito domenica 7 novembre dove c'è in copertina tutta la redazione parte della redazione, quasi tutta la redazione Questo è un programma Aiutami Peppe Ecco qui Questo è un programma che oltre ad essere efficace è anche molto carino dal punto di vista grafico Infatti c'è proprio la sensazione di sfogliare questo giornale E quindi ovviamente questo non è il formato da cui leggeremo ma c'è la possibilità di ingrandire per leggere senza problemi tutti gli articoli che vengono pubblicati Niente, poi per il resto quindi questa è una cosa che io e il direttore abbiamo di cui io e il direttore abbiamo abbiamo molto abbiamo molto in considerazione perché appunto per i motivi che vi ho elencato prima Poi il menu abbiamo la redazione dove è possibile vedere, osservare tutti i curriculum tre o quattro righe di curriculum di ogni redattore Abbiamo la segretaria di redazione Gilda Longhi la coordinatrice di redazione Sonia Tabacco il web administrator Peppe Danna poi ci sono io e poi il comitato tecnico Pasquale Dignola Assunta Pagliuga e poi tutto il resto della redazione Marcella Mastrobono, Daniele Diavolato Ciro Troise che appunto non è qui con noi Fulvio Bundone lo stesso discorso Concetta Albino Rosa Albino, Annalisa Grimaldi Chiara Vancheri, Daniele Ribellino Valeria Postiglione e Luigia Tessitore Come vedete siamo davvero tanti non tutti c'è manca Alessia Fraiese che è appunto la new entry della redazione che a breve provvederemo nell'inserirla nel Ima Castro Nuovo deve mandarci e anche Antonio Botta devono mandarci il curriculum necessariamente Professore Navarra qualcuno abbiamo saltato Poi ritornando di nuovo alla home del nostro sito notiamo che in alto c'è una sezione Casola 2 TV in questa sezione prima Peppe ha accenato qualcosa ci saranno le interviste e le inchieste che noi riprenderemo con un cellulare con una videocamera e porteremo poi pubblicate sullo sito in questo caso c'è il saluto del direttore l'intervista appunto del direttore di Casore A2 e niente poi volevo sottolineare l'importanza di Facebook per questo sito Facebook come sappiamo è diventato un importantissimo diciamo anche mezzo di comunicazione oltre che un social network anche perché io ho anche l'esperienza di un altro sito web iamnibbles.it curato appunto dal figlio di Nando Troise Ciro Troise dove senza Facebook noi non saremmo andati molto lontani perché tramite Facebook noi abbiamo l'opportunità di condividere proprio su questo social network tutte le notizie e i video le inchieste e tutto quello che pubblicheremo sul nostro sito proprio sul social network di Facebook e ognuno di voi magari aggiungendo tra gli amici poi magari in un prossimo futuro creeremo anche una pagina la cosiddetta mi piace dove appunto ci saranno commenti commenti non lo so richieste e quant'altro l'unica concludo con questo ricordando subito all'esperienza personale dal lato tecnico ci sono anche tutte le sezioni c'è la cultura c'è la cronaca si spazia tra cronaca locale regionale e nazionale poi c'è la politica che è lo stesso discorso il news dal comune di questo provvederà anche ci aiuterà molto il direttore Nando Troise l'università di istruzione con le categorie scuole e formazione l'università di ricerca poi lo sport curato da me e spero anche da altri con il calcio il basket il volley altri sport perché elencarli tutti sarebbe stato un po' complesso gli altri siamo noi che questa è una sezione dedicata diciamo alle associazioni di soprattutto associazioni di volontariato e poi infine comunicati stampa comunicati stampa appunto dal comune di Casoria una cosa che volevo sottolineare è che il nostro sito si chiama Casoria 2 quindi Casoria è importante per la nostra per il nostro sito chiamarsi in questo nome con questo nome perché in prima pagina pubblicheremo solo articoli riguardanti Casoria quindi nel nostro sito ci saranno solo notizie riguardanti Casoria magari notizia di crona notizia di sport come sappiamo ci sono molte associazioni sportive qui a Casoria però le altre cose le lasceremo diciamo alle sezioni in prima pagina pubblicheremo appunto solo notizie riguardanti Casoria per concludere io diciamo che il successo diciamo l'opportunità che ho avuto di intervistare diciamo tutti quei personaggi è stata prima di tutto una fonte di gratificazione personale ma oltre a questo diciamo il mio grande successo è essere entrato in questa redazione ed essermi guadagnato il rispetto di tante persone molto più grandi di me alcuni che potrebbero essere potrebbero farmi da genitori come il direttore altri da fratelli come Pasquale Dignola Gitta Longhi Sonia Tabacco da nonno il professor Navarra e questo io penso che sia questo il mio grande successo essere entrato in questa redazione in punta di piedi e essermi guadagnato il rispetto e la fiducia da parte di tutti grazie